Città Studi Biel ha aperto le porte per una giornata straordinaria. Chissà qual è l'obiettivo. Vediamo. Tante le realtà universitarie in Italia. Questa è realtà d'eccellenza. A parlarne Giorgia Ciabattini, responsabile comunicazione, nel corso dell'Open Day, che ha riscosso l'interesse di giovani e famiglie giunti da varie province. Il punto di forza di questa università, oltre ai numerosi corsi che offre, è la possibilità di instaurare un rapporto interpersonale fra docenti e allievi, producendo ottimi risultati di formazione. Una dimensione a misura d'uomo, come ribadito da Ciabattini. Un Open Day in cerca di soluzioni per il futuro di studio. I ragazzi hanno percorso un tour, guidato nei vari laboratori, aule, campi sportivi, residenza universitaria, biblioteca. Hanno fatto domande ai docenti, si sono confrontati con altri allievi, hanno trascorso un pomeriggio di riflessione costruttiva, utile per affrontare un mercato globalizzato in continua evoluzione. Città Studi Biella, isola del sapere, creata dall'architetto Gaia Aulenti. E da Biella è tutto, grazie dell'attenzione, arrivederci.